Neanche a farlo apposta, mentre due slavine si staccavano dai versanti delle montagne bellunesi a Villa Paddi Sedico, l'assessore all'ambiente e protezione civile Gian Paolo Bottacin presenziava una conferenza proprio sul tema dello stato di avanzamento dei lavori di difesa dalle valanghe e i piani operativi di intervento della protezione civile. Il piano di protezione civile che abbiamo attivato dopo l'uragano Vaia a causa dei siti valanghivi che si sono generati a causa della caduta degli alberi, in modo particolare con i siti valanghivi che possono creare problemi ad abitazioni o viabilità. 29 gli interventi già avviati dal 2019 ad oggi, 22 in Agordino, 2 in Cadore e 5 in provincia di Vicenza. Interventi fondamentali per la sicurezza del territorio ricalca Bottacin. Di questi alcuni hanno già raggiunto il completamento, altri sono in fase avanzata e altri ancora in itinere sulla base delle priorità di gestione del rischio. Il piano che è stato realizzato, un piano colossale che è stato impostato già subito dopo Vaia, quindi a fine 2018, rimane ancora in vigore e anche di ulteriori nuovi siti, 5, probabilmente 5 o 6, che saranno interessati da nuovi cantieri. Interventi quindi a tutela e salvaguardia delle persone e delle infrastrutture per ridurre per quanto possibile i rischi derivanti dai fenomeni valanghivi. Le opere di difesa per le valanghe, mano a mano che vengono realizzate e collaudate, poi possono generare una riduzione del rischio nei nuovi siti valanghivi.